Siamo tutti bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come mettere Fortnite su Steam ovviamente è un metodo facilissimo, non ci vuole proprio niente, quindi in questo caso vai su aggiungi un gioco, vai su aggiungi gioco di Steam, vai su sfoglio, andiamo nella cartella di Fortnite, quindi in questo caso vai nel tuo disco dove hai installato Fortnite, se non sai dove l'hai installato tu vai su Epic Games, sui tre puntini, vai su gestisci e poi su gestisci troverai il logo di una cartella, tu ci clicchi sopra e vedi dove sta il tuo Fortnite, quindi andiamo sul nostro disco, vai nella cartella di Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win64 e vai a mettere Fortnite Client, Win64 Shipping, questo qua, ho provato a mettere questo Fortnite Launcher e non va non va, quindi Fortnite Client, ci request e fai apri, una volta aperto, metti aggiungi i programmi scelti, chiudi qua, vai sul tuo Fortnite, eccolo qua, è ancora in esecuzione ovviamente, e clicca su gioca, ed eccolo qua, e non ci resta che aspettare ed eccolo qua, Fortnite si è avviato attraverso Steam se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti, lascia like, attiva la campanellina e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao